Ciao a tutti, benvenuti al nostro video speciale sulla differenza tra un biscotto classico e un biscotto fit. Oggi esploreremo le varie caratteristiche di entrambi i tipi di biscotti per aiutarvi a fare scelte più informate nella vostra alimentazione quotidiana. Iniziamo con il biscotto classico. Salve a tutti, sono Massimo e sono qui per parlarvi dei biscotti classici. Questi biscotti sono solitamente carichi di zucchero, grassi saturi e calorie vuote. Possono soddisfare il vostro desiderio di dolcezza, ma spesso hanno un impatto negativo sulla vostra salute se consumati in eccesso. Grazie Massimo, ora passiamo al biscotto fit. Ciao a tutti, sono Marco esperto di fitness e parlerò del biscotto fit. Questi biscotti sono progettati con ingredienti più sani e nutrienti. Sono spesso ricchi di fibre, proteine e contengono meno zucchero e grassi. Sono ideali per coloro che vogliono godersi un dolce senza sensi di colpa. Grazie Marco, quindi la principale differenza tra un biscotto classico e un biscotto fit è la composizione nutrizionale. I biscotti classici tendono ad essere meno sani, mentre i biscotti fit sono progettati per essere una scelta più equilibrata.